Nel frattempo è oro, nel frattempo è oro, nel frattempo è oro, e che cazzo, e che cazzo, comunque, comunque, l'Italvolli batte per 3-0 l'Argentina, voglio qua sentire della partita, ma come sempre fa la Rai, la partita già è finita, la sta riproponendo, noi vinciamo per 3-0 contro l'Argentina, l'Italvolli che è venile, e continuiamo il nostro cammino verso il primo posto nel giorno. Bene, amici, volete sforciarmi, è il periodo di questa settimana, è che c'è un nuovo post partita dell'Italvolli femminile, come detto appunto nella intro, vinciamo per 3-0 contro l'Argentina, partita in crescendo, primo set molto ostico, molto combattuto, lo risolviamo all'ultimo punto, praticamente negli ultimi punti, l'Argentina ha avuto anche 3 punti di vantaggio, noi però riusciamo con l'esperienza, con la nostra forza, riusciamo a risistemare un po' il tutto, a mettere due puntini sulle I, sistemare appunto l'elaborato, tutto, e riusciamo a portarci a casa il primo set. Il secondo set inizia alla stessa maniera, sulla falsa riga del primo, però lo riusciamo a gestire più facilmente, con l'insedimento, come palleggiatrice, della Orro. Oggi la Ophelia Malino sotto l'Oro, non lo so, un passo a vuoto che fin quando avviene nei gironi, nella partita in cui riusciamo a vincere per 3-0, va benissimo così. Per quanto riguarda per esempio l'Econo, Paola Econo, la nostra giocatrice di punta, oggi ha sbagliato forse qualcosina in più, però quando alla fine metti sempre quei 15-20 punti a referto, non ti si può dire niente alla fine. Quando hai una mole di attacchi, di palloni giocati così ampia, ci sta che qualcuno lo devi sbagliare, non sei una macchina infallibile. Piedrini, Piedrini, super Piedrini, super Elena Piedrini, Policino, che oggi ha messo un botto dei palloni in campo, tanti muri. Sarafar, scusate, Sarafar, non lo so, è la muraglia cinese, il doppio più alta, la nostra centrale è insuperabile. Penso che avere come muro Far e Busetti, sia l'Incubo e anche l'Econo, io non so come le altre giocatrici entrino in campo proprio tranquille, senza paura. Perché devi giocare contro 7-8 persone, perché sembra che a muro ci vadano una squadra intera, perché ti occupano tutto lo specchio che puoi avere per un attacco, è assurdo, è qualcosa di incredibile. Oggi tutti bene, sono Mazzanti, mi ricordo non mi veniva il nome del CT, dell'allenatore, del coach. Mazzanti ha fatto rientrare tutti nelle rotazioni, Rafa Foli, Sorokaite, Orro, la gala Ghirichella, ha reso partecipi di questa vittoria un po' tutto il gruppo, visto che era appunto una partita facile, mette in modo anche le cosiddette riserve, così appunto da darle responsabilità e quindi nel momento del bisogno, nel caso in qualche partita molto più compatuta che arriverà più avanti, spero il più in là possibile, magari si faranno trovare pronte, perché sanno di far parte di un gruppo in cui anche loro possono essere una pedina fondamentale per arrivare alla vittoria. Quindi ottimo gestione del gruppo da parte di Mazzanti. Comunque l'incontro decisivo sarà l'ultima giornata contro gli Stati Uniti, noi non penso che abbiano giocato gli Stati Uniti, perché noi giocavamo alle 2 di notte con l'italiana, quindi le 9, sì, le 9 circa, le 9 in punto, ora di Tokyo, quindi non penso ci siano state partite prima, se no hanno veramente un feco enorme a far giocare le partite alle 7 di mattina, è un po' esagerata, comunque penso sia la prima o quella la nostra, quindi ancora non sappiamo il risultato degli Stati Uniti. Vedremo, non penso perdano, quindi appunto come dicevo prima, ci giocheremo tutto e per tutto nell'ultima partita contro gli Stati Uniti. Vedremo chi delle 2 nazionali riuscirà a spuntare e guadagnarsi il primo posto, che le permetterà di beccare la quarta dell'altro girone. Vedremo. Comunque, like, commento, iscrivetevi alla campina, non perdete il suo video. Dovete spaccare questo video di like, anche quello che arriverà sul canottaggio per questo oro, che si gode, si gode, ma la nuova tutto, si gode. Meno male, comunque, ci vedremo sicuramente, questo è solamente il primo evento della giornata, ci vedremo più tardi. Ciao!